Il digiuno di 24 e 42 da settimana è quello che consiglio a tutti, a prescindere dal proprio stato di salute o dai propri obiettivi. È quello che noi cerchiamo di spingere di più tramite i nostri litili di digiuno, le nostre consulenze, in quanto questo permette di pulire regolarmente il corpo, dà una flessibilità metabolica che ti permette di raggiungere più velocemente qualsiasi obiettivo tu voglia raggiungere nella tua vita, sia di salute che di performance e ti permette di insegnare al tuo corpo di essere estremamente persimoioso, nonché ulteriormente va a scovare quelli che sono i piccoli problemi del corpo e individuarli per poterci andare a lavorare in modo approfondito. Quindi in realtà è una sorta di detective che ti può accompagnare nella tua vita costantemente portandoti a un livello di salute superiore digiuno dopo digiuno.